buongiorno a tutti da bologna anche oggi da ben ti voglio esattamente ciao lori che entusiasmo svegli troppo presto anche oggi e adesso andiamo a fare un giro in giro per le stradine dell'interland bolognese con davide al telefono lori al computer quindi praticamente sempre zero compagnia e alla fine siamo arrivati a pianoro da jimmy ciao 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 allora com'è che ci hai conosciuto esatto esatto oltretutto oltretutto loro sono anche fortissimi con le stampanti 3d e ci ha dato anche una bella idea un'ottima bella idea per stampare esatto e quello tantissima roba procedono gli scambi di idee in più ovviamente abbiamo parlato anche di un po di idee aziendali livello business tipo il nostro cloud e le altre cose loro come lavorano dai clienti abbiamo un po ubriacato di servizi però è stato divertente ci stava ci stava poi finché eravamo in zona era anche semplice riuscire arrivare qui quindi è una cosa bella esatto esatto quindi magari ci rivedremo ancora poi tra una cosa e l'altra ovviamente con bolognese e poi al ritorno come sempre tra videochiamate e un sacco di altre cose lavorative ciao